Un'aula Bucci gremita anche perché c'è molta curiosità per questa piattaforma, un modo con cui i sindacati vogliano cercare quantomeno di uscire dalla crisi? Assolutamente sì, noi cercheremo, siamo da stimolo in questa piattaforma per lo sviluppo e per il lavoro, cercando di stimolare le autorità che stanno sul territorio e successivamente la nuova amministrazione verrà formata con delle proposte concrete, quindi messe per iscritto, che possono portare sviluppo e occupazione su questo territorio che è uno dei più alti tassi di disoccupazione, abbiamo visto l'altro giorno che sono 30.000 iscritti all'ufficio di collocamento senza contare alcune categorie che non vengono chiaramente segnalate come precari, casse integrati, mobilità e chi poi non si iscrive più perché ha perso comunque la speranza di trovare un lavoro. Questo purtroppo è la situazione che noi oggi abbiamo, quindi cercheremo di fare delle proposte che riguardano un po' tutti i settori a partire dal porto e dal polo energetico che sono i due attori principali di questo territorio, perché con loro insieme alle connessioni che possono essere fatte l'integrazione può essere fatta con l'amministrazione comunale, con l'Aste e quindi con tutti gli altri attori e imprenditori del territorio credo che si possa fare una rete e creare sviluppo e occupazione per tutto questo territorio che ne ha così bisogno. Un documento ampio, una proposta anche articolata, su quali basi si poggia? Allora, intanto la presenza nutrita che c'è dentro la sala testimonia quanto sia sentita questa iniziativa che ha lo scopo di presentare una piattaforma per il lavoro, per il rilancio e lo sviluppo del territorio non soltanto di città vecchia ma di tutta l'area limitrofa. È un documento che è stato elaborato dal sindacato per quanto riguarda CGL, Cislo Wille in maniera unitaria che ha coinvolto i livelli confederali, territoriali ma soprattutto tutte le categorie dei lavoratori e dei pensionati ovvero tutti coloro che sono a contatto maggiormente con le istanze del territorio e della cittadinanza. Il sindacato la propria parte la fa con responsabilità, chiediamo a tutti gli attori economici, imprenditoriali, politici che aspirano a governare questa città, di raccogliere questa sfida e di fare un passo indietro individualmente per farne due in avanti come collettività, come insieme di persone. Quello che è importante in questo momento è passare dalle parole ai fatti e pensare al benessere collettivo quindi dall'interesse particolare all'interesse generale. Grazie Grazie Grazie